Il treno regionale 7810, di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Montoro Forino, delle ore 6 e 28, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Mercato San Severino. Il treno regionale 7833, di Trenitalia, proveniente da Nocera Inferiore, è diretto a Buccino San Gregorio Magno, delle ore 6 e 50, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 7832, di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Nocera Inferiore, delle ore 9 e 09, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 7850, di Trenitalia, proveniente da Montoro Forino, è diretto a Salerno, delle ore 12 e 15, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Acquamela, Frattevilla Comunale. Il treno regionale 7836, di Trenitalia, proveniente da Eboli, è diretto a Nocera Inferiore, delle ore 14 e 52, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 7826, di Trenitalia, proveniente da Benevento, è diretto a Salerno, delle ore 17 e 02, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Acquamela. Il treno regionale 7826, di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Mercato San Severino, delle ore 19 e 26, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 7829, di Trenitalia, proveniente da Mercato San Severino, è diretto a Salerno, delle ore 21 e 23, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Frattevilla Comunale.